In questo video non solo prove pratiche e tagli, ma anche la vera misura della potenza ottica prodotta da questo modulo laser, con tanto di banco ottico e strumentazione professionale, e la preparazione di una pizza con il contributo del laser. Per una volta mi arriva in laboratorio anche un pacchettino piccolo e comodo da spostare. Appena aperto trovo subito un giveaway, che fa abbastanza ridere in realtà visto così, una lastra di alluminio che vi assicuro è utile se non volete rovinare il tavolo su cui andrete a fare le lavorazioni. Cosa che tra l'altro a me già successa. I componenti sono pochi e mi fiondo subito sulla cosa più interessante, il modulo laser da 10 watt di potenza ottica, che sono veramente tanti. Per sfatare ogni mito porto il modulo Atomstack e anche gli altri due moduli laser che ho qui da tempo, da chi laser li conosce bene, così da fare un bel confronto. Il laboratorio la dice già lunghissima, strumenti da paura e banchi ottici. Per la misura della potenza ottica uso una testa termica calibrata per laser da 40 watt. Questo strumento assorbe la potenza del fascio laser grazie ad una superficie non riflettente, che crea un gradiente di temperatura che a sua volta viene convertito in un segnale elettrico. Parto dal modulo più piccolo che ho per vedere quali sono le reali prestazioni. Si tratta di un modulo che dichiara 5 watt ottici. Montato sul banco ottico con la testa di misura davanti, accendo il modulo alla massima potenza, e vedete subito che la potenza misurata dallo strumento in realtà è bene al di sotto di quella dichiarata. Il massimo è sui 3,7 watt, ma vediamo se gli altri moduli si comportano meglio. Passo al secondo modulo che dichiara una potenza di 5,5 watt ottici. Con questo modulo uso anche il controllo pvm e aumento la potenza man mano fino ad arrivare al massimo. E guardate un po', anche questa in realtà è sotto specifiche, però raggiunge un buon livello con 4,6 watt. Infatti questo modulo mi aveva già dato ottimi risultati all'epoca con dei tagli veramente netti. Ma vediamo il modulo da 10 watt che cosa combina. Anche in questo caso salgo man mano con la modulazione e quindi con la potenza. Arrivo al massimo che si ferma a 8,3 watt. Una potenza sicuramente molto alta, ma non proprio esattamente come quella indicata. In ogni caso è il doppio del modulo precedente, quindi mi aspetto grandissime cose con questo laser. Fatte queste fantastiche misure di potenza che hanno sfatato ogni mito, rientro nel mio laboratorio e procedo con il montaggio della CNC che muove il modulo laser. La struttura e il montaggio sono semplicissimi. Il tutto si compone di 5 elementi principali e veramente poco altro per poterlo assemblare velocemente e facilmente. Tra le cose principali c'è il display touchscreen che sembra essere un bello oggettino, ma bisogna vedere che cosa hanno combinato con il firmware. Una cosa che a me piace sempre è l'alluminio. La struttura non ha bisogno di commenti essendo super semplice. Su uno dei profili vedo delle indicazioni molto importanti. Prima di tutto ci sono le certificazioni di conformità, nonché l'etichetta che indica i vari segnali di pericolo, tra cui quello del laser. E, cosa importante, viene indicato di indossare gli occhiali di sicurezza. Peccato che gli occhiali non siano inclusi nel kit. Questo è un problema, però vi dà l'opportunità di comprare degli occhiali adatti al laser in questione, che avendo 10 watt basta veramente poco per rovinare la vista in maniera permanente. E di occhi vi ricordo che ne abbiamo solo due, e non ce ne sono di ricambio. Occhiali giusti vuol dire che abbiano una certificazione e delle chiare indicazioni marcate sulle lenti, come questi presiti tramite RS Components Italia. Trovate il link in descrizione con un codice sconto. Sulla lente vedete una sigla OD5+, che corrisponde alla protezione necessaria per un laser in classe 4. Per fortuna questo modulo laser viene fornito con un vetrino che attenua l'intensità e lavora a soli 2 mm di altezza dal pezzo di lavorazione. Un breve intermezzo per farvi conoscere PCBWay, un produttore professionale di circuiti stampati che offre la possibilità di realizzare ben 10 PCB a soli 5 dollari con tempi di produzione velocissimi. Inoltre offre moltissimi servizi come l'assemblaggio SMD dei componenti e la realizzazione su substrati particolari come ad esempio quelli metallici. Offre anche servizi di fresatura CNC, taglio a laser e stampa 3D. Per ordinare un circuito stampato vi basta caricare i vostri file Gerber direttamente sul sito. Ma basta chiacchiere, monto velocemente tutto e si parte con la prima prova di taglio incisione. Grazie a tutti. Una delle cose belle è avere la microSD. Infatti, tacchete... Finito il montaggio accendo e provo immediatamente il laser, ma mi accorgo subito di un dettaglio. Una volta fatto l'homing degli assi e posizionata la testa nella posizione desiderata, si può spostare tutto tranquillamente con una mano e il modulo laser non oppone alcuna resistenza, il che non mi sembra una grande cosa, soprattutto se ci sono lavorazioni consecutive. Come prima prova incido un pannello di compensato da 5 mm. La potenza effettivamente è molto alta e non sapendo i parametri ho esagerato con l'incisione della figura del grande Nikola Tesla. Il taglio invece è impressionante, con appena una singola passata a 500 mm al minuto ha tagliato praticamente tutto il contorno. E sta roba che cacchio... Per fortuna c'era questo e non c'era il tavolo sotto, sennò avrei distrutto il tavolo. Visto il bel risultato, vado con il secondo taglio e mi costruisco delle palette per infornare la pizza, con tanto di scritta personalizzata. Guardate durante la lavorazione quanto fumo viene prodotto dal taglio del legno. Anche qui serve una misura di sicurezza, altrimenti si riempie facilmente e infretta il laboratorio di fumo. Et voilà, le palette sono pronte per poter fare la pizza. Direi prova della pizza superata e pizza squisita. Come ultima prova su legno ho inciso una fantastica moto venuta benissimo e veramente ricca di dettagli. Ho azzeccato i parametri di potenza e di velocità di avanzamento, che vi suggerisco in ogni caso di sperimentare, in base al materiale. Io ho usato 3000 mm al minuto e 70% di potenza. Considerazione, tagliare un centimetro di legno? Neanche ci provo. Senza un movimento lungo l'asse Z e solo 2 mm di margine rispetto al punto di fuoco, visto l'ingrombo del mobile, non si riuscirà mai. Il rosso ha fatto questa prova con scarsissimi risultati. Trovate il video in descrizione. Ho fatto svariati tagli e lavorazioni nel mentre che ho provato questo laser e come vedete dentro la testa del laser si accumula parecchio sporco. Il legno genera fumi e la resina collosa si appiccica ovunque. Così ho deciso di provare veramente nel concreto il sistema Air Assist. Me ne sono costruito uno riciclando una pompa di un vecchio aerosol che arriva ad una prevalenza manometrica sui due bar e se si strozza l'uscita il flusso di aria diventa veramente molto intenso. Ho stampato in 3D un cono da posizionare davanti all'assorgente per dirigere il flusso di aria nella zona di taglio. Con un tornio e del metallo lo potete fare anche molto meglio. Oppure potete comprare il kit di Atomstack. Monto il tutto sulla testa rimuovendo il vetrino di protezione. Da fare solo se avete occhiali adeguati. In ogni caso ottenete il cono originale perché dirige l'aria sotto la lente ed evita che si sporchi con i prodotti del taglio come le particelle del fumo che a lungo andare possono deteriorare le prestazioni. Pensavo meglio ma non così tanto meglio. Cavolo ma guardate che precisione con le Air Assist e guardate la differenza senza. Cioè anche il taglio dietro è venuto perfetto praticamente. nessuna sbavatura anche sul taglio più piccolo che è 2 mm di lato. Veramente, veramente impressionante. In più i pezzettini sono staccati subito. Anche questa è una cosa da notare. Guardate anche la precisione del taglio del pezzettino. Non è stato bruciato. Anche altra cosa. Vista la sorpresa oso con un taglio passante sempre sui 5 mm con dei dettagli molto molto piccoli. Il logo del Canalati Lab. E guardate che spettacolo il risultato. Questi dettagli sono assurdi. Secondo me è una cosa. Non mi aspettavo un risultato veramente così pulito su un legno comunque da 5 mm. Veramente incredibile il livello di dettagli come la punta della freccia e lo spessore della parete tagliata che è al di sotto di un millimetro. Ultimissime prove. Vado sul metallo e provo ad incidere l'acciaio inox su cui ho passato una mano con il pennarello indelebile nero. Il laser ha rimosso il nero e ha inciso e scalfito l'acciaio inox lasciando il segno indelebile e fisso. Anche questo un qualcosa di veramente unico. Ultimissima prova interessante per tutti. Ho inciso la lattina di alluminio verniciata. La riconoscete. Anche in questo caso la vernice è stata rimossa completamente lasciando esposto solo l'alluminio. Questa tecnica secondo me può promettere molto bene anche per la produzione di circuiti stampati su basetta ramata. Magari ci farò un video più avanti. Che ne dite? Ma non ero contento se non vi avevo detto tutto e un dettaglio mi ha colpito negativamente. I cavi di alimentazione della testa laser vanno assolutamente rivisti. La testa assorbe diversi ampere e infatti quando si accende si sente che la ventola rallenta perché la tensione cala e si abbassa rispetto ai 12 volt. Portare 3 ampere su cavi così fini non va assolutamente bene. Ultima prova. Ho verificato la modulazione del segnale PWM di comando della testa con l'oscilloscopio. Facciamo un run. Yes. Ed eccolo qua. Oh guardatelo qua. Molto bello pulito. Questo è un duty cycle del 70%. Tirando le somme il nuovo laser Atomstack ha decisamente una bella potenza e permette lavorazioni molto molto veloci. Tanti dettagli interessanti e sicuramente con l'aiuto dell'Air Assist le cose sono migliorate tantissimo. Tra i difetti c'è l'ingombro del modulo laser e l'assenza di una sezzetta mobile e il fuoco fisso che permette di tagliare spessori relativamente fini. Ed eccoci alla fine del video e come sempre vi invito a lasciare un bel like e un commento qui sotto se vi è piaciuto. Vi invito inoltre a visitare la pagina Patreon con i diversi sostenitori che stanno pian piano crescendo. Come sempre vi lascio anche le pagine social dove potrete trovare costanti aggiornamenti sulle attività che svolgo nel mio laboratorio. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Atilab. Intanto un saluto. Ciao!